Grazie a tutti. Sei troppo un narciso, che ti guardi e ridi. Una famiglia di persone normali. Ho deciso di fare questo esperimento, di comprare delle cornici e mettere foto di bambini che non sono leone, in modo di agevolare una crisi di identità in lui. L'esperimento funziona, perché... No, amore, no! Poi arriva il momento dell'accettazione, dove dirai sì, sono io. Qui si attende con trepidante attesa l'uscita di All In Out For You, featuring Zara Larsson. Non vedono l'ora. Sì, amore, grazie del supporto. Grande. Grazie. Amore, è uscita la mia nuova canzone. Sei contenta? Sei casata? Vogliamo festeggiare? Sì, amore. Sì, amore, grazie. Sì, amore. Sì, amore. Sì, amore. All In Out For You è finalmente uscita, grazie a tutti del supporto, continuate a pomparla, mandatemi screenshot mentre l'ascoltate, taggatemi nelle stories, domani vi ripubblico, come potete vedere sia l'amati che chiara non hanno retto il colpo perché l'emozione è troppa, fate... Eppure tu non vedi niente... Eppure tu non vedi niente... Eppure tutto quanto si incassi... Eppure tutto quanto si incassi... Eppure tutto quanto si incassi... Bravo amore balla! Pala... Eppure tu non vedi niente... 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 Ciao Chi è? Se quel pezzo vi stia piacendo, sto aspettando che Sony mi mandi i numeri di telefono da videochiamare perché non mi hanno ancora mandato una mazza, potete mandare reclami alla Sony in caso Però mi hanno appena comunicato una figata ovvero che le otto persone che tra di voi streameranno di più il nuovo brano insieme a Zara Larson avranno la possibilità di salire su un jet privato con me e ascoltare in anteprima il nuovo disco Quindi fate swipe up e streamate il più possibile La vera figata non è tanto salire su un jet privato, nemmeno ascoltare il disco in anteprima La figata sarà vedere la mia faccia durante il decollo e l'atterraggio perché mi cagherò sotto